terza giornata del campionato di superlega crede in banca si sfidano a taranto la gioiella prisma taranto e la vero volle monza e risponde galassi con un primo tempo mar visic beretta viene tenuto il suo primo tempo quindi può contrattaccare taranto la mano di richiamo leppi su leppi falaschi primo tempo velocissimo di larizza è una sassata incredibile tra rizzo credo e leppi stefani a tutto braccio ed è un race dallo strato il tentativo di federici ottimo su federici fisic guardavi schiba tiene difesa grande rizzo e invece qui stefani si becca cappuccione vabbè non poteva fare altro ma taranto in qualche modo ricostruisce attacca con stefani c'è ancora marvisic il primo tempo di debattino e la palla finisce in rete di 5-23 1-0 per la gioiella prisma taranto che toglie il primo zero e la ricezione visce l'altra parte della rete ma ne approfitta leppi ma c'è un gran salvataggio di pire di galassi grandi ossa e si non fa cadere nulla ma e stefani e stefani a fare strike in traccia nonistica mar visic in banda per davis chiba tiene difesa taranto larizza in bagger su leppi ballonetto e anche qui sono il primo tempo si si bravo bravo tra free ball per grosere ma il muro e chi la rizza davvero questa sera sta lavorando bene ma bene nei tre metri la fai troppo spazio lepchi la difesa lunga di bar e caranto conquista il primo punto del campionato altro zero tolto dalle sue caselle intanto lepchi e vincente gira molto bene in lungolinea perfetta la sua esecuzione in questo caso si lancia male la palla però riesce ad aggiustare il tiro a trovare fiducia a è una disattenzione a perfora il muro di larizza e l'oeppi a pericolo a pericolo a pericolo pericolo come la pesca di barra 6-7 3-0 primi tre punti in campionato per taranto a pericolo a pericolo a pericolo a